Onorevole Paternostra, lei diciamo appunto è nella Commissione Finanze, quindi ad hoc. Che cosa dice, cosa può ribadire a tutti questi concetti che sono stati esposti, queste istanze anche che peraltro sono state ribadite e anche con la competenza delle persone che l'hanno potuto esprimere insomma? Io parlo probabilmente prima da imprenditore perché sono imprenditore da sempre. Settore che cos'è? Ho un'azienda di spedizioni internazionali quindi lavoriamo sia in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale quindi con quella Europa dove comunque anche la Lega vuole restare come vogliono restare 5 stelle però con delle regole ben diverse, queste le abbiamo detto penso in più occasioni. Io penso che ci siano molte aspettative su questo governo perché veniamo da anni in cui un po' la crisi internazionale, un po' anche la complessità di questo Stato che non negli ultimi anni ma un po' da sempre è stato un po' poco amico sia degli imprenditori ma anche dei lavoratori ha dato il peggio di se stesso e quindi secondo noi adesso è arrivato un momento storico dove questo contratto, questo patto, questo programma elettorale fatto in seconda battuta con il Movimento 5 Stelle abbia chiaramente creato tantissime aspettative. Lo sappiamo e questo ci carica di grande responsabilità per cui il governo e io penso che gli italiani l'abbiamo visto nega Zebo qualche settimana fa attraverso il web con il Movimento 5 Stelle gli italiani avevano la necessità e la voglia di comunque far partire un governo che fosse sicuramente un governo diverso da quello che avevamo prospettato durante la campagna elettorale perché non nascondiamo che comunque la Lega all'interno del centro-destra dapprima voleva un governo chiaramente totalmente diverso da quello che è nato poi però comunque l'esigenza e questa legge elettorale che non ha permesso altre strade se non quella di tornare alle une secondo noi sarebbe stata una sciagura per questo paese che è così disastrato ebbene questa legge elettorale ha dato questa possibilità adesso ci siamo dentro ci siamo dentro ci siamo una responsabilità enorme di fare un governo con il Movimento 5 Stelle che con loro abbiamo grandissime differenze però ci sono delle prospettive, dei programmi, dei patti importanti a 360 gradi che cercheremo in tutti i modi di far rispettare una delle istanze che abbiamo visto che è forte è quella della semplificazione però peraltro me l'ha ribadita anche un rappresentante della categoria degli agricoltori che dice per dire per cui il settore è anche un altro tipo di imprenditoria forse diventa la prima prima che andare a toccare ancora le aliquote perché poi ora si parla di un anno a venire senza dubbio questo potrebbe essere fattibile impostando un lavoro di un certo genere che non è semplice per carità allora io mi metto nelle vesti di un imprenditore sia italiano ma anche estero prima si parlava di imprenditori che magari vengono in Italia magari ne verranno a breve ad investire che si trova davanti a una giungla, una giungla con due colonne importanti e difficoltose una è la burocrazia perché c'è la difficoltà di creare imprese in Italia dove purtroppo ci sono tante regole ma però molto poco rispettate e poi una fiscalità, lo diceva prima la dottoressa assolutamente grave nei confronti dei lavoratori ma anche delle aziende e quindi il nostro auspice è questo di incidere su queste due pilastri, su queste due grandissime difficoltà per cercare di rendere la vita sia dei lavoratori ma anche dei dettori di lavoro assolutamente più semplice di quello che è oggi un grande respiro, un sollievo per quelli che oggi vogliono restare in Italia e continuare a fare impresa quelli che in Italia vogliono iniziare a fare impresa e quelli che dall'estero vogliono arrivare in Italia per cercare di trovare quelle condizioni minime necessarie per cercare di dare lavoro ai nostri cittadini, ai nostri lavoratori questo è il nostro auspicio è una cosa semplice? no, lo sappiamo, è una cosa chiaramente difficilissima però noi ci proviamo noi abbiamo sicuramente la delega da parte di milioni di cittadini italiani di provare questa strada mi accennava il segretario poi chiediamo più tecnicamente anche alla Presidente Flat Tax non è vostra però fate parte della compagine di governo quindi in un modo o nell'altro è stata promessa scaglioni con criterio comunque della proporzionalità che dir si voglia fattibile o meno senza andare a sforare oltre perché abbiamo visto i costi che sono abbastanza allora sulla Flat Tax lo sappiamo bene che Salvini è stato uno dei nostri cavalli di battaglia io penso che questo vada nel senso della semplificazione a favore delle imprese e sicuramente del lavoro dei commercialisti che anch'io condivido il fatto che io vado dal commercialista per cercare di trovare un supporto che mi dia slancio la mia impresa e non che perché ogni volta invece mi deve risolvere i problemi che la pubblica amministrazione mi crea questo è il senso poi parliamo della liquota 15%, 20%, 23% oggi non è dato a sapere perché comunque siamo appena partiti chiaramente ci saranno delle regole chiare delle liquide chiare e io ho il nostro auspicio un sistema che possa essere bilanciato da una non diminuzione importante a 360 gradi della contribuzione totale a favore dello Stato qui in conti devono tornare assolutamente presidente avete fatto delle riflessioni anche voi come commercialisti su questa Flat Tax comunque su una rimodulazione però qualcosa non vi torna? ma la Flat Tax la Flat Tax che dovrebbe essere quindi una tassazione piatta come dice il nome stesso la traduzione in realtà non sarà così perché già nelle prime forme dovrebbe avere almeno due aliquote di redditi applicati su redditi progressivi il 15% fino all'80% mi sembra come prima bozza e poi il 20% su un reddito superiore a 80.000 euro l'articolo 53 della Costituzione dice che ogni cittadino deve contribuire in base ad una progressività diciamo di applicazione ai propri redditi però ecco basterebbe però fare un piccolo una piccola applicazione matematica a questi valori per capire che qualche cosa bisognerà comunque aggiustare perché se così fosse credo che non sarebbe un vantaggio cioè non bisogna pensare di evitare il lavoro per creare delle diversità o delle disuguaglianze lavoriamo di più affinché tutti tutti possiamo pagare in maniera progressiva le tasse in maniera giusta e corretta allora se posso solo due minuti una persona fisica siccome la tasse prende come riferimento il reddito familiare mi sembra come prima bozza di quello che ho letto una persona fisica con 60.000 euro di reddito oggi applicando le progressioni da 23% a 43% in base ai vari redditi imponibili di riferimento paga circa il 30% di imposte se arriva circa al 20% 19.000 euro di imposte su 60.000 euro di reddito applicando la flat tax ne pagherebbe 9 quindi abbiamo un 53% di risparmio di imposte la stessa normativa però applicata ad una famiglia con due persone che lavorano e con un figlio il 53% di riduzione quindi di risparmio si abbatte al 32% una famiglia con due persone e due figli si abbatte al 27% una famiglia con due persone che portano a casa reddito con tre figli si abbatte al 21% quindi faccio fatica a dire che l'applicazione di questo tipo di norma sia una norma equilibrata per tutte quante le persone che devono dichiarare i propri redditi oggi 100.000 euro di reddito imponibile paga applicando le normative che ci sono paga 36.300 euro di imposte applicando la flat tax come oggi proposta ne paga 20.000 di meno ne paga 16-17.000 euro quindi 100.000 euro è un reddito importante in Italia non è un reddito di molti attenzione onorevole volevo darle una piccola sottolineatura assieme all'aliquota e ai due scaglioni c'è un altro aspetto molto importante in questa normativa che riguarda le deduzioni i costi deducibili alla dichiarazione dei redditi perché voi prevedete fino a 35.000 euro di reddito familiare e 3.000 euro al massimo quindi togliete di mezzo tutta una serie di costi che oggi sono deducibili e che per esempio riguardano le spese sanitarie le spese per i disabili le spese per persone con problemi che vivono all'interno della famiglia che sono completamente escluse lasciate dentro gli interessi sui mutui e le spese per le ristrutturazioni togliete anche i contributi i contributi previdenziali obbligatori attenzione i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili per evitare la doppia tassazione perché io oggi pago i contributi per avere un reddito di pensione dopo il reddito di pensione fra 20 anni verrà tassato i contributi quindi oggi li posso dedurre quindi ci sono molte tecnicismi di cui bisogna veramente fare attenzione cercate di uscire magari sei mesi dopo però fate bene tutta una serie di considerazioni perché poi ricadono veramente su tutti noi e possono creare danni abbiamo fatto questa bella parentesi sul fisco ne parleremo ancora io però voglio cogliere l'occasione perché poi il professore ci deve lasciare perché profilo internazionale dell'Italia professore e quindi apriamo quest'altro capitolo quest'altro versante perché il tempo vola ci diamo un attimo una configurazione come la vede da esperto dunque diciamo per fare una liaison con quanto è stato detto e poi ovviamente mi sposto perché poi tutto è concatenato comunque e certo direi innanzitutto che diciamo che questi discorsi che sono fatti qua in realtà sono concatenati ma la mia raccomandazione è quella di qualunque riforma fiscale si faccia la si faccia tenendo più presente che in passato alla dimensione internazionale del nostro paese perché tanto per citare un caso è stato citato l'autorità anticorruzione benissimo che ci sia anzi fondamentale però non dimentichiamoci come ci sono fior fior di studi dell'Ox e dell'ONU dove c'è una convenzione internazionale contro la corruzione che c'è un indice mondiale sulla corruzione dove il nostro paese ahimè diciamo riesce male tutti questi studi cosa dimostrano che più aumenta la complessità delle norme e la burocrazia più è bassa la trasparenza e più aumenta la corruzione quindi se noi avessimo norme più semplici come dicevamo prima una burocrazia tra l'altro abbiamo degli eccellenti dirigenti della pubblica amministrazione quindi non è colpa delle persone è proprio una questione di riorganizzazione normativa beh allora probabilmente anche l'autorità anticorruzione sarebbe meno occupata di quello che è oggi quindi è un'urgenza questa? eh beh direi che sì sono proprio fenomeni ormai pacifici cioè se non c'è più è complesso il sistema e più è opaco e più aumenta la corruzione diciamo che non è più discutibile onorevole quindi un bell'onere c'è di non poco conto la seconda variabile poi è appunto è questa sì qualunque riforma fiscale si faccia mi sembra che sia emerso devono esserci adesso al di là del dibattito politico che ci ha voluto insomma c'è bene e continui ma ci vogliono degli approfonditi studi di impatto economico perché quello che mi preoccupa diciamo come internazionalista è il riflesso sul debito pubblico perché se qualunque manovra diciamo a favore insomma come la vogliamo fare desse il segnale di un aumento del debito pubblico io torno da Parigi proprio ieri sera ecco stranamente i nostri cosiddetti cugini francesi continuano a dire ma come fate non ce la farete mai bravissimo infatti volevo sapere un po' il polso della situazione perché so che lei è di recente qual è il polso della situazione rispetto alla Francia che è un po' una logna appunto dei nostri diciamo più vicini se vogliamo gli europei più vicini a noi è quello di ancora un'incomprensione direi non hanno capito e mi sembra che sia bello per noi italiani anche perché sposato nicchia non è sorpresa abbiamo capito però insomma come dicevamo prima non hanno capito del resto dell'Unione Europea che è un momento questo qui creativo per l'Italia creativo in senso positivo cioè un momento di riforme e questo ovviamente spetta a chi che sarà anche un momento di rottura rispetto a quanto si è fatto in passato ma spaventa la Francia infastidisce posso dire una battuta poiché potremmo essere anche migliori di loro cioè da fastidio quello volevo intendo dire questo è da fastidio perché in Unione Europea che in effetti va anch'essa ripensata per cui anche e qui diciamo apriamo un po' la questione europea perché non può certo continuare con un asse franco tedesco che ignora l'Italia e la Spagna insomma e che tratta un paese uno stato membro come è successo con la Grecia beh insomma anche qui insomma bisogna un attimo quindi benvengano tutti questi questo nuovo vento di riforma che arriva dall'Italia se fatto bene è fondamentale per la sopravvivenza della stessa Europa aggiungo dicendo che avete sentito sicuramente le ultime notizie su quello che è successo al G7 allora lo scenario internazionale dicono un fallimento un fallimento del G7 però come sempre lo dicevamo prima quando ci sono dei conflitti dei fallimenti ci sono anche delle opportunità è come la questione delle sanzioni degli imbarghi su cui magari torneremo un attimo è stato un errore strategico ovviamente quello di prima di tutto escludere la Russia dal G7 perché lo scopo poi di questa organizzazione internazionale lo dico da internazionalista non è tanto quello di punire ma quanto quello di coinvolgere i paesi e poi con strumenti di pressione cercare di riportarli alla ragionevolezza siamo ovviamente è pacifico che la questione ucraina sia una questione una pagina nera della storia internazionale europea e che la Russia abbia sbagliato di questo però il problema è come si risolve questo sistema e abbiamo visto adesso tutta la pochezza diciamo del sistema di sanzioni che siamo riusciti a mettere in piedi perché arrivando al sistema delle sanzioni che erano disegnate per fare pressione sulla Russia perché in qualche modo ripristinasse la legalità in queste zone dell'Ucraina beh abbiamo in realtà come è successo con il G7 creato tra virgolette un mostro nel senso che così come escludendo la Russia dal G7 i russi sono andati dalla parte cinese e quindi creando adesso una sorta di G4 su cui gli esclusi siamo noi noi europei dico e anche gli americani molto probabilmente perché se si mettono insieme Russia, Cina India e Giappone visto che il futuro dell'economia internazionale è da quella parte non lo so che cosa succederà e ripeto con le sanzioni è un'altra questione simile perché chi è che ha sanzionato la Russia se noi andiamo a vedere poi chi ha deciso queste sanzioni è l'Unione Europea gli Stati Uniti l'Australia la stampa parla solo di questo perché noi siamo ancora euroamericocentrici e pensiamo di essere il centro del mondo e purtroppo siamo ormai una piccola fetta di popolazione mondiale importanti economicamente ma non così come un tempo e nessuno per esempio sa che Putin si è fatto l'Unione Economica Eurasiatica che è uno spazio enorme economico euro-russo che copre tutta l'area ex-sovietica e su cui tra poco probabilmente aderirà anche la Turchia all'Iran quindi la Turchia che noi abbiamo così metto alle porte l'Unione Europea per un milione di motivi che sappiamo giustamente fa le sue scelte e quindi una volta che ci sarà e guardate che è operativa da due o tre mesi per chi esporta dell'area russa o russofona questo significa un codice doganale euro-asiatico unico un sistema di certificazione unico cioè mette un po' di difficoltà un po' di difficoltà come sempre per chi è fuori da un movimento che deve essere colto per cui ci sono sfide internazionali importantissime dove con tutto rispetto ovviamente per chi si occupa di politica nazionale pensano sia più possibile guardare solamente alla questione nazionale ma ci bisogna sempre fare come dire i due piatti della bilancia e l'impatto internazionale quale sarà per cui l'Italia si trova veramente in una situazione geopolitica importantissima dove vanno colte delle opportunità infatti il mercato comunque c'è grande attenzione dei mercati ma non soltanto a livello internazionale sull'Italia e perché ancora così tanti dicono perché ancora interessa l'Italia per la posizione geopolitica come dice lei è perché c'è qualcos'altro che ci sfugge perché forse potrebbe essere una situazione di mezzo particolare perché altrimenti un paesino come l'Italia potrebbe essere il cervello della Grecia tanto quanto in realtà no non è così beh no perché ovviamente ai tempi della guerra fredda intanto eravamo come dire la cerniera ma lui si spiegava eravamo cortini adesso appunto con lo sviluppo gigantesco delle economie asiatiche siamo ritornati volito e volenti al centro del mondo perché essendo al centro del Mediterraneo noi siamo oltre a essere ovviamente la sesta potenza economica mondiale non dimentichiamocelo non è che poi siamo così messi male magari dovremmo dircelo più spesso con tutti i problemi che abbiamo insomma siamo sicuramente un paese economicamente importante ma la cosa positiva è questa sono un ottimista come sentite la cosa positiva è che noi siamo l'unico paese che è una potenza economica internazionale che si trova al centro del Mediterraneo dove è tra l'altro il futuro dei più importanti traffici economici internazionali perché lo sviluppo dell'Africa o comunque del Maghreb oltre a quello dell'Asia è chiaro che rilancia la nostra posizione in termini geoeconomici sono tutte questioni che vanno colte quindi arriviamo al discorso della portualità e delle riforme che sono state fatte sulla portualità purtroppo riforme ancora mio abbiamo un sacco di autorità portuali mentre non abbiamo certamente Rotterdam in Italia che potremmo far giocare abbiamo Gioia Tauro che è un porto meraviglioso però se parlo sotto il controllo chi si occupa di trasporti però è chiaro che se uno appunto sdogana a Gioia Tauro poi cosa c'ha non c'ha il ferroviario cioè il nulla fino a nord Italia quindi va proprio ripensato secondo me ed è un'opportunità unica perché ma siamo al centro di quello che succederà nei prossimi vent'anni Certo il professore ci deve lasciare adesso Onorevole vuole fare una domanda cogliere l'occasione che visto che è un luminare nel settore internazionale abbiamo questa occasione Io ho ascoltato naturalmente attentamente il professore e condivido praticamente quanto è stato detto soprattutto io mi sento di dire che è stato un gravissimo errore quello di escludere la Russia dal G7 e poi escluderla da tutte queste cose che panorama internazionale che noi eravamo uno dei principali paesi dove avveniva l'esportazione verso la Russia chiediamo ai nostri imprenditori del settore del mobile parlo del veronese del settore del mobile del settore della frutta l'ortofrutta e tutte queste cose qua ci siamo fatti male da soli e ancora oggi non capiamo il perché chiaramente la Russia probabilmente per certi versi ha sbagliato su certe però comunque c'era modo e modo per cercare di far capire certe situazioni tante altre nazioni a livello internazionale hanno sbagliato il loro approccio politico anche parliamo di quello che è successo nel nord Africa negli ultimi anni eppure le cose sono andate molto diversamente io penso che ci sia veramente da riguardare i nostri rapporti con la Russia perché comunque la nostra imprenditoria per prima ne sta soffrendo in maniera molto rilevante segretario vuole fare una domanda al professore qualcosa che l'ha incuriosito in modo particolare l'analisi è interessante se io posso farle una sottolineatura rispetto alle cose che triangolando sono emerse noi non possiamo avere in politica estera lo strabismo di guardare una volta da una parte e una volta dall'altra cioè Conte il primo ministro nostro è stato al G7 io ho apprezzato come dire il profilo istituzionale che lui ci ha messo però la prima sera dice una cosa che viene totalmente disattesa il giorno dopo perché o noi agiamo in un sistema che è da Unione Europea assolutamente da riformare cioè l'Unione Europea deve trovare la forza di parlare con un'unica voce almeno su due tremi fondamentali che sono la politica estera il fisco stesso come dire i paradisi fiscali che spostano capitali senza tassarli però detto questo l'Unione Europea non può farci comodo quando portiamo a casa i contributi europei per andare a tagliare l'inaugurazione delle piste ciclabili e poi però vederne anche un aspetto negativo di quando dice i diritti civili internazionali devono essere riconosciuti non è che possiamo passare sopra al fatto che c'è come dire un regime che va a prendersi qualcuno che era contrario allo stesso e lo fa fuori in giro per l'Europa perché questo è acclamato che è successo questo regime russo oltre che con il sistema ucraino quindi io ci andrei piano perché se semplifichiamo come sempre su tutto e lo guardiamo solo con il nostro angolo visuale del tornava comodo a noi nel breve cioè nel medio può esserci qualcosa che non torna comodo agli altri rispetto a noi siamo in un sistema interconnesso non siamo mai un'isola come dire in un arcipelago che può vivere da solo cioè è un sistema interconnesso chiarissimo professor Sposato vuole domandare qualcosa la curiosità di questa mattina mentre sentivo parlare mi è venuto in mente di cosa ne pensa dell'incontro di Trump tra Trump e il leader nordcoreano di stamane cosa si profila secondo lei professore un'altra bomba che potrà esplodere improvviso in aspettato in considerazione degli ultimi mesi è una domanda molto difficile perché questa questione anche della gestione nordcoreana ovviamente è un problema sorprende però tutti effettivamente sorprende tutti ma sorprende sempre diciamo lo stile di amministrazione del presidente per cui non però l'Unione Europea qui non è coinvolta ma se posso fare un'ultima battuta a modo di provocazione poi ovviamente ve la lascio per il dibattito l'Unione Europea in effetti è un'organizzazione internazionale molto strana perché per esempio quando Trump dice che aumenta i dazi sulle automobili è un problema europeo perché colpisce soprattutto i tedeschi quando invece l'Italia appunto ha una questione mica da poco che è un'immigrazione ovviamente quasi fuori controllo e nessuno penso sia contrario all'immigrazione però l'immigrazione fuori controllo è un problema sicuramente da verificare quando sappiamo e ce lo rivelano anche fonti fonti militari che nei prossimi 7-8 anni ci sono circa 350 milioni di persone a sud del Sahara pronte a spostarsi verso nord è chiaro che l'Unione Europea dice no questo è un problema italiano ma ripeto c'è una spiegazione giuridica su questo su cui non voglio annoiarvi però è chiaro che se di riforme si parla bisogna proprio ribilanciare un po' queste questioni l'Unione Europea è nata come potenza economica ecco perché i dazi sulle automobili sono un problema europeo ma non appunto le navi di disperati che approdano all'Italia e in questo e qui chiudo la questione nordcoreana evidentemente è fuori dal mirino dell'Unione Europea perché non essendo un problema economico quindi una miopia anche è una miopia però deriva dai trattati internazionali perché ci rimetteremo ci troviamo noi abbiamo diciamo vissuto sulla base di un modello che è partito benissimo nel 57 si è sviluppato un po' però poi molto lentamente è rimasto così un gigante economico come si dice è un anno politico per cui è proprio questa la sfida solo una battuta perché so che deve scappare questione di diritto internazionale proprio la sua competenza l'azione che sta intraprendendo Salvini diciamo così che ha dato avvio Salvini poi vabbè che potesse farlo non potesse farlo però corretta secondo lei o no? quindi bloccare la chiusura dei porti un uitzio politico se non tecnico guardi tecnicamente non si sbilanci politicamente tecnicamente la chiusura dei porti ovviamente è possibile se ci sono delle situazioni di emergenza nazionale esatto emergenza nazionale ovviamente noi finora non l'abbiamo fatto perché abbiamo abbiamo anche una cultura diciamo anche di matrice cattolica che ci consente insomma ci ha consentito di non arrivare a questi estremi che altri paesi hanno fatto ovviamente quindi umanità umanità non vedrei che non vedrei illegali questo tipo di sono misure forti però è un discorso più politico che tecnico giuridico cioè è chiaro che fin quando comunque sono lecite si possono traprendere giuridicamente poi su soccorsi in mare magari ecco la cosa è un po' diversa perché il soccorso in mare non è derogabile per emergenze nazionali ma la chiusura dei porti sì adesso per dire un'ultima cosa e poi chiudo i nostri cugini francesi hanno sospeso l'applicazione della convenzione europea sui diritti umani per non poca cosa quindi come vedete i trattati internazionali ci sono ma hanno sempre delle clausole di sospensione in situazione di gravi emergenze per cui insomma ovviamente se si riesce a dare dei segnali forti e questo sarebbe così la mia raccomandazione ovviamente senza mettere a scapito le vite umane questo è l'ideale il difficile è trovare ovviamente dei mezzi per farlo per cui quello che si è fatto mandando dei medici a bordo insomma in qualche modo ha palliato però certo un segnale forte bisogna darlo e non aspettiamoci che in europea non avendo le competenze risolva il nostro problema perché questo è il problema poi in fondo nei prossimi anni assolutamente Presidente Carlo Valerio tutto chiaro dovevo fare una domanda sì volevo velocissimo perché lei ha accennato prima al fatto che le crisi rappresentano anche delle opportunità non è che possiamo speriamo leggere il fallimento del G7 canadese come una sorta di obbligo e di opportunità per gli europei di ragionare un po' più all'europea e non in ordine sparso perché il fatto che gli americani si defilino tirando fuori la scusa di andare a parlare con quel bauco scusatemi perché il presidente coreano e la Corea non vale niente noi abbiamo fatto le sanzioni alla Russia perché gli Stati Uniti ci hanno detto di farle dopo loro nel frattempo hanno aumentato l'interscambio con la Russia e noi l'abbiamo diminuito sarà un'occasione questa per dire gli europei guardiamoci intorno e ragioniamo in modo un po' unitario o è velleitario lo sperato? sentiamo non dimentichiamoci che il G7 non è un'organizzazione internazionale nasce come incontro informale di capi di Stato chiamati all'epoca da Giscard e Stena attorno a un caminetto questo è il modello del G7 e quindi come si è fatto si può anche disfare non c'è nessun trattato internazionale complicato però ovviamente questo funziona fin quando c'è un interesse che funzioni quindi sono d'accordo con lei che se a un certo momento il G7 diventa non più rilevante perché appunto uno dei protagonisti se non il protagonista si alza e se ne va perché ha un appuntamento a un'altra parte probabilmente bisognerebbe che ragionassimo in Unione Europea un po' meglio su addirittura se continuarlo o meno o magari rifare un G7 però con la Russia con la Cina con il Giappone dove ovviamente l'Unione Europea dovrebbe avere una voce in capitolo ma il problema è che abbiamo un problema anche interno in Unione Europea di coordinamento tra noi ma adesso per fare una battuta pensi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU dove c'è la Gran Bretagna che vota da una parte la Francia che vota dall'altra è una roba che sembra una roba di 200 anni fa ma l'Unione Europea non c'è l'Unione Europea non siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU per quanto poi non sia così per cui ci sono delle distonie che devono essere aggiustate però è chiaro che insomma qui l'Italia deve in effetti avere delle valutazioni secondo me di impatto economico molto più profondo di come si è fatto finora ed elaborare brutto dirlo in un contesto europeo un interesse nazionale che possa essere difeso nei tavoli anche di Bruxelles perché è chiaro che gli altri lo fanno non è che sia come lei è un ottimista allora ci sta dicendo che forse questa opportunità è un ospicio dai invoccandoci le maniche tutti in questo momento secondo me abbiamo ottime chance indispensabili però dobbiamo essere tutti uniti infatti allora professore noi la lasciamo sappiamo che deve scappare assolutamente un impegno urgente quindi ringraziamo il professore di essere stato qui con noi di averci fatto l'onore della sua presenza sappiamo che ha tantissimi impegni andiamo subito in pubblicità magari avremo l'opportunità di averla con noi in studio un'altra volta grazie a voi pubblicità potremmo insieme